Installazione di cabine, urne, elenchi in rigoroso ordine alfabetico, codici e contatori. A poche ore dall'inizio del ballottaggio presidenziale tra Macron e Le Pen, anche nei piccoli centri si curano tutti i particolari. Siamo a Violet, nella Loira, che conta 1.013 elettori. Il giorno della votazione i primi elettori saranno testimoni del fatto che l'urna è vuota e che il contatore segna zero. Quindi chiuderemo l'urna con delle chiavi che prenderò io in consegna in quanto responsabile del seggio elettorale. Dal piccolo centro a Parigi, nella capitale francese, la macchina organizzativa del ballottaggio punta soprattutto sui controlli, visto che l'allerta terrorismo è sempre massima. In tutto il paese saranno 50.000 i poliziotti e i gendarmi impegnati a garantire la sicurezza nei seggi.